Arriva il Bank Term Funding Program della Federal Reserve in aiuto alle banche in crisi di liquidità come la Silicon Valley Bank ormai andata e Signature Bank che proprio anche nel weekend aveva iniziato a scricchiolare e a indicare che non avrebbe continuato la sua attività ma che i depositi dei conti dei clienti erano tutto ok. Se per evitare un po' questa questione la Federal Reserve comunica un nuovo fondo disponibile per le banche una specie di quantità di vising non è un quantità di vising ne parliamo oggi ragazzi ma fa fare questo ai mercati. Vi mostro subito il grafico di Bitcoin che nel weekend ha iniziato a reagire in maniera brusca 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 e dalla giornata già di sabato sembrava indicare una fase rialzista ma più 7,59 domenica più 6,60 e si riporta ai massimi di periodo in pratica in sole due sedute pochissime ore di tempo. E' successo tutto in un weekend e viene anche dimostrato da un altro grafico che adesso vi faccio vedere ragazzi cioè quello delle attese dei tassi di interesse per il meeting della Federal Reserve il 22 di marzo. Non esiste più l'ipotesi di rialzo di 0,5%. E' stata cancellata. Se vi ricordate bene questa ipotesi la scorsa settimana esisteva e a dire la verità aveva anche tanti seguaggi dopo l'ultimo discorso di Powell perché era arrivata al 70% di probabilità che questo 76 era un rialzo di 0,5 ragazzi. Ora questo 76% è diventato un rialzo di 0,25 basis point ed esiste per la prima volta dalla fase di quantitative di tightening diciamo così della rialzo dei tassi della Federal Reserve esiste la probabilità che il prossimo meeting la Fed non alzi i tassi. Secondo me non è così già ve lo dico ve lo anticipo senza fare l'indovino e poi vi spiego anche perché ma la cosa più importante di tutti è il salvataggio della Silicon Valley Bank e soprattutto il meccanismo di base che è questo qui ragazzi cioè quello vi ingrandisco un po' il la struttura e ok vediamo un po' eccolo qua va beh la lasciamo in inglese non in italiano allora così poi ve la leggo io comunque non è il caso ragazzi è proprio il meccanismo è di questo fondo il BTFP che in pratica ragazzi indica quello che farà la Fed per intervenire sui primi scricchioli derivati dal rialzo dei tassi cioè il primo effetto vero del rialzo dei tassi oltre alla questione dell'inflazione lo scricchiolio del sistema finanziario delle banche che avevano in pancia i titoli di Stato ragazzi perché perché i titoli di Stato i treasurer americani in pancia le banche come Silicon Valley Bank con un rialzo dei tassi sono crollati di valore e questo ha condotto diciamo la banca ad avere seri problemi di liquidità e i tassi alti tra l'altro non rendevano molto semplice l'accesso al credito per la banca stessa e questo meccanismo ragazzi in pratica di avere in pancia una valorizzazione di titoli di Stato molto più bassa degli anni precedenti a causa dei tassi di interesse più l'accesso al credito che è molto più difficile visto che i tassi sono alti porta crisi di liquidità soprattutto in quei istituti di credito che erano molto legati a quella che era la finanza tecnologica e quindi Silicon Valley Bank la prima di tutte in questo settore mercato cripto segnato il bank eccetera quindi interviene la Fed ragazzi perché non è in intenzione della Federal Reserve in nessun modo per crashare il sistema finanziario anche qui ci sono tante tante idee che sono ovviamente un po' da tenere in considerazione ma partiamo dalle cose principali andiamo a vedere quello che c'è questa settimana come uscita dei dati perché ci sono delle giornate importanti parliamo del Bank Term Funding Program perché vi devo spiegare cosa significa e come agisce e poi vi dico la mia anche sulla questione del meeting del 22 rialzo dei tassi sì o no per me è sì ma vi spiego perché poi guardiamo analisi ciclica di Bitcoin ha chiuso un ciclo trimestrale all'80% sul minimo del 10 di marzo ed è partito il nuovo ciclo trimestrale insieme al ciclo mensile lo andiamo a vedere ma poi il resto delle analisi le faremo probabilmente più in là ragazzi con i giorni perché oggi altrimenti viene un video di due ore e un quarto perché tanta roba tanta carne al fuoco iniziamo immediatamente dal calendario economico in maniera estremamente sbrigativa giorno clou assolutamente martedì domani domani c'è il tasso di inflazione degli Stati Uniti annuale e mensile è atteso in ribasso un ribasso di 0,4 che non è poco è un ribasso dell'8% circa rispetto agli attuali valori ed è importante ragazzi che il dato previsto sia in linea attenzione perché ancora una volta eventuali dati inferiori al 6% del tasso di inflazione faranno in un contesto del genere fare i botti ai mercati ragazzi perché siamo in una fase ovviamente dove le notizie verranno prese in maniera positiva la Fed ha protetto il sistema finanziario dal primo scricchiolio perché non vuole fallimento delle banche ragazzi vuole uno stop all'attività produttiva e riportare il tasso di disoccupazione al livello naturale ve lo sto dicendo da 6 mesi va bene ragazzi questa cosa qui e ve lo ribadisco non vuole un crash dei mercati non vuole un crash dei sistemi non vuole neanche che i mercati vadano tanto su questo sì sicuramente ma non ci andranno con tassi così forti no però ovviamente interviene se falliscono le banche 6% se scende sotto impegniamo se invece è peggiorativo lì iniziamo a scricchiolare domani alle 13.30 ragazzi va bene poi abbiamo una serie di dati rilevanti per quanto riguarda la questione recessiva soprattutto le scorte di petrolio tanto e non quanto ma il giovedì che mi piace un po' di più le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione dato che secondo me è fondamentale proprio in questa fase e lo ribadisco da 6 mesi è fondamentale il tasso di disoccupazione per gli Stati Uniti poi c'è anche la BCE che dirà il suo con la decisione sui tassi di interesse attesa di un incremento di 0,5 assolutamente sarà credo così per quanto riguarda la BCE e poi venerdì abbiamo il tasso di inflazione anche dell'Europa che è teoricamente previsto uguale ragazzi a quello prima quindi qui in Europa è un disastro da un punto di vista di controllo dell'inflazione siamo ancora anni luce lontano da quello che stanno facendo gli Stati Uniti arriverà anche da parte loro il controllo oppure l'Europa dovrà subire questo rialzo dei tassi ancora per tanto tempo e c'è da ragionare ragazzi è ovvio che i tassi ancora sono troppo bassi in Europa però questa inflazione in Europa non va che fanno le autorità allora andiamo avanti poi per quanto riguarda la questione del fondo della Fed ve lo spiego in maniera molto veloce ragazzi il Bank Term Funding Program offre in pratica dei prestiti a tutte quelle agenzie, le banche, le agenzie di credito e di saving degli Stati Uniti che hanno necessità di depositare i loro titoli che devono essere titoli di Stato oppure titoli di debito legati ai mutui e altre security eccetera quindi tutto che sia garantito quindi sono dei titoli a collaterale di questo prestito che devono essere titoli di alto livello quindi non di basso livello, non obbligazioni su Prime eccetera e questi saranno valutati al pari ragazzi cioè saranno valutati al valore finale dell'obbligazione e possono essere richiesti il 100% di liquidità sui loro debiti questo in pratica ragazzi significa che le banche che hanno titoli di Stato o trecino in portafoglio degli Stati Uniti possono dare alla Fed i suoi titoli di Stato in garanzia e riprendersi il cash, la liquidità di cui hanno necessità per sopperire alle attuali fasi, alle attuali mancanze in pratica è la Fed che si accusa tutta la minusvalenza creata dall'incremento dei tassi di interesse sui titoli di Stato se lo accusa la Fed e poi lo rimanderà a data successiva quando magari i tassi dovranno scendere fa qualche anno questo meccanismo non è una cosa strana perché non è un aiuto all'economia ma è un aiuto alle istituzioni bancarie che sarebbe avvenuto forse, forse era anche abbastanza scontato chi pensava che magari la Fed facesse fallire il sistema americano non era quello insomma ragazzi il concetto Arthur Ius ex CEO di Bitbex ha festeggiato ragazzi con una serie di tweet giganteschi di cui il più simpatico è questo Are you ready for the motherfucking bull market? perché in termini di cripto questo evento è molto forte ragazzi è molto importante perché le cripto sono molto deboli da un punto di vista di struttura finanziaria rispetto al resto delle stocks per esempio e ai mercati classici perciò l'intervento anche su alcune banche che magari potrebbero avere difficoltà l'intervento della Fed, l'intruzione di liquidità su quelle che sono le parte finanziaria aiuta molto le cripto ad essere un po' più tranquilli da certi punti di vista Arthur Ius festeggia ma è veramente interessante poi vi faccio vedere anche questo tweet che ovviamente indica quello che vi ho appena spiegato che la Fed userà il collaterale messo a disposizione delle banche valutato alla pari e lo usa al 100% cioè fa un effetto leva 2 in pratica meglio di più, un 110% perché in realtà il collaterale non è valutabile nello stesso alla pari, teoricamente vale di meno perché vale di meno ragazzi? vi faccio vedere quello che è successo titoli di Stato a due anni degli Stati Uniti questo è l'andamento del rendimento quindi se voi volete vedere una similitudine del grafico dell'obbligazione sottostante sarebbe questa qui ragazzi allora vi faccio vedere l'inverso eccolo qua allora immaginate che voi siete Silicon Valley Bank qui avete in portafoglio questi titoli questo è la valorizzazione del vostro portafoglio non guardate l'asse del Y perché questo è il rendimento però per farvi capire il titolo obbligazionario ha fatto questo crollo quindi tutte le banche, tutte le banche, tutte le banche compreso le banche italiane sono in questa situazione lo ripeto, tutte le banche comprese le banche italiane sono in questa situazione ed è una situazione di svalutazione del portafoglio titoli presente nelle proprie valorizzazioni e non riguarda solo Silicon Valley Bank riguarda tutti gli istituti di credito che hanno titoli di Stato da sempre in portafoglio per cui le banche europee, le banche italiane praticamente ne hanno una tonnellata ragazzi perciò immaginatevi il concetto che c'è dietro non può la BCE non fare la stessa cosa quando busseranno anche alla BCE le banche europee questo lo dovete già immaginare farà la stessa cosa della Fed è il motivo per il quale stanno festeggiando i mercati perché la Fed ragazzi se la Fed dice A copiano le istituzioni occidentali al 100% questo è il significato comunque della portafoglio di Silicon Valley Bank che si è svalutato di questa fase di incremento allora torniamo invece a vedere una cosa stra interessante sui titoli di Stato americani a due anni guardate l'ultima parte immediatamente il rendimento inizia a scendere questo significa che il titolo di Stato sottostante sale ragazzi rendimento e valore del titolo sono inversamente proporzionali collegati da una funzione matematica quindi e sono proprio l'uno l'opposto degli altri totalmente decorrelati ciò significa che se qui vedete un rendimento del titolo che scende vuol dire che il titolo è salito di prezzo e quindi di conseguenza anche le valorizzazioni di chi ce l'ha in portafoglio ciò che vedete per un'altra cosetta e a questo punto poi ridiamo questo insomma per darvi il là e poi passiamo all'analisi dei grafici ma questo giorno di ribasso del 3,98% sui rendimenti di titoli di Stato americani è giovedì 9 e questo è venerdì 10 ha fatto un meno 3,98 meno 5,77 il rendimento ragazzi ma allora ovviamente ragazzi mi sono dimenticato di dirvi la fluttuazione del 20% non è sul valore nominale dell'obbligazione ma sul rendimento quindi sul valore nominale è molto di meno insomma è giusto per intenderci allora dovete usare l'effetto leva se volete poi quella stessa valorizzazione però qui una cosa si evince ragazzi ok giovedì e venerdì qualcuno sapeva perché scusate come fa a scendere in giorni in cui ancora non è stato annunciato niente questa cosa perché avviene questa cosa allora guardate qui poi è avvenuta una giornata di oggi ovviamente ci può stare però giovedì e venerdì poi nel weekend avvengono le news e poi abbiamo oggi questa ancora fase di bassista questa inversione di tendenza del rendimento dei titoli di stato quindi giovedì e venerdì qualcuno sapeva detto questo detto questo e lo dico e non lo dico passiamo al grafico di bitcoin ragazzi e andiamo a vedere un po' l'analisi ciclica l'analisi tecnica e le solite questioni allora bitcoin pompa ad addio questo è nasdaq invece no allora nasdaq no ragazzi perché 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 non è la stessa cosa in questo momento ragionare in termini di cripto e in termini di mercato hold c'è da dire però che anche su nasdaq è avvenuto esattamente quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana con queste fasi al ribasso che vanno a chiudere il ciclo trimestrale di nasdaq perché oggi ha fatto comunque lasciato di minimo questo è il future però ragazzi è le mini quindi anche su questo se valutate l'indice potreste trovare delle differenze se valutate il future più grande delle differenze insomma quindi bisogna considerarle perché nei mercati hold esistono queste leggeri differenze se non che ragazzi probabilmente questa struttura sancisce la chiusura del ciclo trimestrale di nasdaq non sappiamo ancora se questa è avvenuta però perché dobbiamo astendere sul nasdaq qualche giorno in più probabilmente quindi qui chiuderà un ciclo semestrale e da qui inizierà una nuova fase che potrebbe spingere con tranquillità per un nuovo ciclo mensile che poi questa va da to the moon assolutamente non è quello che vi sto dicendo nel video andiamo a vedere invece cosa ha fatto bitcoin e che in questo momento sta ritornando a 24.000 in direzione proprio ascensore potentissimo verso i massimi di periodo allora qui c'era una struttura molto complessa ragazzi che aveva portato una serie di difficoltà in questo frangente alla considerazione se effettivamente sul minimo del 13 di febbraio era stato chiuso un ciclo che si chiama trimestrale e questo ciclo trimestrale poteva avere il minimo in questa zona il breakout avvenuto il 9 di marzo con il minimo segnato poi il 10 del minimo di febbraio ha invalidato questa struttura e messo in seria difficoltà l'analisi ciclica perché da lì in poi ed è ancora valida questa cosa adesso vi spiego perché potrebbe anche essere che il ciclo trimestrale sia iniziato effettivamente a febbraio ed era ribassista questo significava scendere per altri due mesi con la patidica analisi del complottista del minimo di maggio se non che ragazzi poi il rimbalzo di queste tre giornate ha un po' eliminato questo concetto il breakout di questa trendline avvenuto nella giornata di ieri e confermato dalla candela di oggi annulla completamente questo concetto resta solo un singolo segnale cioè il superamento dei 25.300 ma quello già li sapete che annullerà completamente l'ipotesi che qui ci sia un trimestrale ribassista al momento comunque andare a considerare questa fase facente parte di un trimestrale ribassista è un po' forzata tecnicamente dobbiamo ancora considerarle entrambe le ipotesi ma ovviamente come sapete lo scenario di probabilità volge all'idea che sul minimo del 10 di marzo sia stato chiuso il ciclo trimestrale di bitcoin facendo anche un mensile ribassista che era quello iniziato il 13 di febbraio chiusosi il 10 di marzo che qui è iniziato un nuovo mensile lo sappiamo in pratica quasi con certezza quindi nuovo mensile iniziato a bomba 109 giorni per il trimestrale di bitcoin molto lungo non è anomalo non è strano ma non è nella media perché nella media sono di solito 80 e qualcosa ma se un ciclo è iniziato un ciclo annuale a novembre come sembrerebbe ragazzi ormai visto anche il numero di tempo che stiamo cioè il numero di giorni che siamo al di sopra di questi minimi e anche il fatto che se bitcoin continua così nella giornata di oggi stesso breccherà probabilmente i massimi del precedente struttura ciclica in questa fase in pratica noi abbiamo quello che è l'inizio quindi di un ciclo annuale probabilmente un quadriennale che può essere più lungo quindi nulla vieta a una fase iniziale di essere lunga anche perché è stata estremamente rialzista intanto ricordatevi che non esistono regole generali su questo tipo di analisi l'analisi ciclica è un'analisi di serie storiche perciò non è un'analisi scientifica e fisica dove una regola deve essere a forza confermata non è così perché un'analisi di serie storiche sapete bene che non è un'analisi di dati oggettivi e di ripetitività e di probabilità calcolata in maniera oggettiva perché poi abbiamo comunque la possibilità che il mercato spasi anche queste questioni detto questo andiamo a vedere la struttura attuale e cercare di capire allora siluro gigantesco di bitcoin nuovo ciclo trimestrale con grande probabilità iniziato sul marzo lo sfondamento di questa area di 25.000 qualcosa conferma al 100% la view di nuovo ciclo annuale iniziato a novembre e da qui nuovo ciclo trimestrale che a quel punto io metto sempre in generale di durata 85 ragazzi farà una sua fase di minimo poi a giugno attenzione non mi piacciono molto i cicli che partono a bomba così io ve lo dico perché non cattate vittoria da un concetto che da qui adesso andiamo non è questo che vi sto dicendo stiamo solo ragionando su una struttura ciclica io i massimi di questo ciclo annuale per il momento me li attenderò già da un po' tra aprile e maggio ne ho parlato mille volte ne ho parlato in academy ne ho parlato anche nel video aprile e maggio eccetera se non fosse stato così c'era lo scenario complottista di maggio con il minimo di maggio ma oltre quello ragazzi non è detto che si vada e questo ve lo ribadisco perché non è concettualmente un'ipotesi dell'anno 2023 il fatto di andare to the moon il recupero di questa zona è importante c'è anche lo zampino probabilmente di CZ che dice che compra un miliardo di BSD in BTC Ethereum e BNB e lo fa esattamente a cadenza temporale perfetta con l'annuncio della Fed per creare un super boost ci sta ragazzi che anche le istituzioni delle criptovalute si difendano anche da questi punti di vista creando un po' di effetto balanga anche da questi punti di vista che in questo caso è un effetto a spirale positiva e questa è la situazione allora per ragionare in strutture mensili andiamoci a mettere il nostro classico ciclo mensile che è probabilmente idealmente in struttura rialzista se questo diciamo è una prima fase io me lo metto più lungo e dovrebbe andare in conclusione poi ad aprile quindi siamo in una fase piena della struttura ciclica il primo livello di resistenza è inutile che ve lo dica è esattamente questa fascia che si riva a riproporre i massimi della zona di febbraio se superati in close daily almeno perché dobbiamo avere una conferma quantomeno in close daily ragazzi questo indicherà la chiarezza di tutto quello che ci siamo detti nuovo annuale da novembre perfettamente in linea con mille analisi che avevamo fatto qui sul canale ed eventualmente nuovo trimestrale dal 10 di marzo e questo chiarisce tante cose ragazzi perché avere un'idea che siamo sicuri nel nuovo annuale di novembre ci fa anche avere una struttura di atteggiamento operativo completamente più indirizzata più tagliata perché escludiamo un'ipotesi ma come sempre resta il superamento di questo livello andiamo a vedere Ethereum se sta facendo cose anche lui identico a Bitcoin quindi nuova fase di Ethereum probabilmente è iniziato il nuovo trimestrale anche di Ethereum qui a 10 marzo fotocopia di Bitcoin in pratica ragazzi e ancora una volta se supererà questi livelli di prezzo confermerà il nuovo trimestrale e il nuovo è una nuova struttura anche su Ethereum che però non possiamo indicare che sia un annuale da novembre perché in realtà Ethereum non ha una struttura ribassista qui quindi può fare tranquillamente nuovi massimi in questa zona e comunque avere un annuale da giugno quindi su Ethereum la situazione più complicata la voglio evitare ma vi ricordo che la struttura da superare il livello di resistenza resta sempre questo per il resto che sia un nuovo mensile questo già lo sappiamo quindi possiamo tranquillamente andarci a inserire qui una struttura del genere e indicare che da qui è stato un nuovo mensile se non supera questo livello bisogna poi rivedere una serie di cose perché non avremo conferma del nuovo trimestrale iniziato qui e potremmo essere un trimestrale ribassista iniziato in questa zona questo vi dico l'eccezione che al momento poco probabile ma esiste che fa una cosa del genere io ve l'ho disegnata alla fine del video chi è arrivato alla fine del video ha visto questa cosa questa ipotesi esiste fintanto che reggono i massimi di febbraio solo il superamento di febbraio annulla questa ipotesi fino ad allora ancora questa ipotesi noi la terremo comunque d'oggi per oggi è tutto noi in caso di novità ci sentiremo di nuovo domani ciao ragazzi buon inizio settimana finalmente una settimana scoppiettante ciao